Non accetto queste cose, non accetto che nella mia città succedano degli sbottamenti con dei morti la seconda volta, la seconda volta e la politica va in televisione a dire che è colpa dell'Italia, è colpa della lunghezza dell'Italia ed è colpa del sistema matematico che non ha funzionato, che era perfetto. Non ci credo, non ci credo più, quando fai un lavoro da 7 miliardi sotto la ferrovia e se sbotta butta giù la ferrovia, non ci credo più che è un caso, non ci credo più, queste cose vengono premise nel bilancio, te lo dico io, perché non è possibile se no. E spediamo 7 miliardi di robe di trans camionari, terzo barico, spediamo miliardi di ponti, cemento, 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 calcestruzzi, cavo.